Siamo qua con il mister del Cenaia, Massimo Macelloni. Mister, che partita ha visto, che partita possiamo commentare da parte vostra? Ma è stata una partita decisa, diciamo così, dagli episodi, nei primi 20-25 minuti. Punizione per noi, calcio d'angolo per noi, non l'abbiamo sfruttata. Loro una punizione e un calcio d'angolo l'hanno sfruttata nel migliore dei modi. Poi dopo è difficile da commentare perché c'è una squadra sicuramente di maggior valore della nostra. Però se si concede degli errori individuali, degli errori così, diciamo, su palla da fermo, poi diventa dura perché fino a quel momento penso che la partita era in equilibrio, anche se naturalmente riconosco la maggior forza del Fulonica Gavorrano e questo non lo scopro io. Però fino a lì avevamo mantenuto, coperto, poi dopo ci sono stati questi due episodi che secondo me hanno deciso poi la partita e dopo diventa dura, anche perché, insomma, l'ho detto prima, il Fulonica Gavorrano è una squadra che può lottare per vertici arti. Noi bisogna lottare pallone su pallone, domenica su domenica. Allora, possiamo dire però che questo impatto del scenario, la prima volta, ricordiamolo, in Serie D, può essere, come lo commentiamo, appunto, questo impatto nella nuova categoria? Ma c'è da imparare, c'è da durare fatica e allo stesso tempo bisogna commettere pochissimi errori, anche perché noi, tra virgolette, ci alleniamo la sera, quindi già un fattore che in questo periodo diventa difficile da sopportare. Però lo sapevamo all'inizio dell'anno, sapevamo che era dura, che bisognava metterci tutti lì, cercare di dare ognuno di noi stessi a partire da me, alla società, alla squadra, qualcosa in più. E niente, cercheremo di tirarci fuori da questa situazione. Facciamo allora l'in bocca al lupo per il proseguo di campionato. Grazie mille, grazie a voi.